buongiorno buon 23 agosto fa caldissimo io sono sfinita ma è venerdì e sono arrivato un sacco di cose belle quindi sono molto contenta stanca ma contenta magari un po sconclusionata potrei straparlare un attimino ma so che siete abituati quindi però ve lo dico perché mi sento un filino più ciancicante nella giornata di oggi vi aspetto diamo uno sguardo in giro alle cose che sono arrivate oggi o qui tutto un pezzo per per la release di all in create di waffle flower e poi vi porto a vedere le carte singole così facciamo un piccolo tour non ce l'ho fatta preparare nient'altro portate pazienza ma abbiamo cercato di lavorare quanti più ordini possibili questa mattina abbiamo praticamente finito quelli della promozione forse è rimasto qualche coda arrivato nella dopo la mezzanotte del 18 però insomma siamo vicini vicini non vuoi guardare allora io vi dico che ci hanno già chiesto se vogliamo ordinare la release dopo praticamente quindi vabbè non diciamo niente 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 io ho il tavolo super ingombro allora intanto qui tutte le strips buone non buone difettose insomma poi sistemeremo in un giorno più o meno vicino eccoci buongiorno allora venerdì la settimana è finita prima settimana di rientro post ferie vi ho ammorbato con un rila al giorno anzi più rila al giorno devo essere devo essere sincera e ce la prendiamo un pochino più con calma con questo weekend domani vediamo cosa fare nel pomeriggio nel solito live del pomeriggio domenica mattina facciamo una card sempre un pochino dinamica per riprendere insomma le buone abitudini non so ancora domani se fare qualche prova di campioni dipende un pochino se riesco magari a prepararmi poi i prodotti per metterli in preordine se funzionano e se sono se sono pronti ecco perché dopo la sorpresa insomma dei timbri delle strips non lo so provarli in diretta è un po più c'è il brivido dell'imprevisto non so una cosa un po' l'alfred hitchcock non lo so se me la sento vediamo domani mattina ho il compito di cercare di girare i video dei campioni del calendario dello spavento perché inizieremo ad assemblare il calendario dello spavento quindi se non l'avete ancora acquistato fatelo ordinatelo perché poi dalla prossima settimana ancora quando entriamo in settembre iniziamo a spedirli non vedo l'ora così poi possiamo iniziare ad aprirle parlarne in maniera non in codice non con delle preview non vedo l'ora dunque l'unica cosa che non è arrivata oggi a parte bartolini che non ha fatto il ritiro mi pare per un problema sul camion del corriere che doveva venire non hanno trovato nessuna sostituzione e vabbè aspettiamo fiduciosi lunedì a questo punto non è arrivata la seconda parte della release dei ideologi alla mia richiesta di chiarimenti al fornitore scopriamo che il pacco è rimasto lì da loro quindi come vedete la giungi ordine ogni tanto provoca dei dissesti sia nei vostri ordini che anche nei miei perché me ne hanno spedito un pezzo e non il resto chissà se hanno un sacchettino con le mie cose quando ho più non lo so mi piacerebbe vedere questo questo magazzino prima o poi allora oggi bastava già la release di all and create però insomma è arrivato a quello sono arrivate le carte singole della simple vintage scary stories della cider and donuts che a me piacciono veramente tantissimo è arrivata la release e molti reintegri di waffle flower alcune cose ve le ho già sbloccate perché tanto non vi preoccupate sta uscendo un'altra release quindi mettiamo nell'ordine della release anche tutti i reintegri che ci servono perché anche in questo penso che non ci sarà pace fino a novembre quindi prepariamoci per questi due mesetti belli super intensi ma ci piacciono io sono sempre felice in questo periodo dell'anno perché è quello più stimolante da un punto di vista creativo che ha le palle di colori che mi piacciono di più insomma ve l'ho già raccontata più volte queste cose scommetto che non ne potete più di sentirmelo dire e ancora sì sì però è meraviglioso c'è uno stencil della postage college die a tema halloween oh beh l'aspettavo tantissimo io sono tanto felice ne ordinerò mille è bellissimo quindi aspetto di vedere cosa devo riordinare di questa release qua e poi e poi chiudo attendi ecco sì ti ho scritto una mail Alice perché ti ho fatto l'ordine stamattina il Versa fine brava che me l'hai detto guarda aspetta che prendiamo il mac intanto come l'hai detto lo mettiamo nel carrello perché altrimenti da quando finisce da quando me l'hai detto adesso è il lo stencil della fustella ricamabile forse no aspettate che in carrello una cosa alla volta così adesso controllo ho anche quella roba lì allora Versa fine ma della della waffle flower dici Versa fine ne prendiamo un po' perché tanto ci servono della waffle flower let me see buongiorno ciao Rachele dunque la release di Natale perché non mi fa vedere la pagina scusate i ricamabili a fiore questo aspetta questo qua che si chiama winter floral stitching die vediamo winter floral winter floral come vedete non capita solo al sito della cle refresh the page winter floral ah sì c'è anche lo stencil ma me lo sono persa adesso lo in carrello bravuti grazie la regia è molto riconoscente lo in carrella ma me lo sono persa perché che senso ha prendere la fustella senza lo stencil il cle sveglia in carrellato buongiorno buon pomeriggio ben arrivati settimana difficilissima quella del rientro al lavoro con un lavoro in mane in genere ci provavo tutti gli anni a dire adesso rientro al lavoro dopo una settimana però lavoro solo mezza giornata qui mi sarebbe servito una mezza giornata in più allora intanto che qui si aggiorna la pagina wofoshlaura ha qualche problemino con il sito ma insomma meno male che non capita solo a me e lo lasciamo lì quindi assolutamente mi sarebbe servito una mezza giornata in più altro che lavorare solo mezza giornata perché questa settimana è stata assolutamente super densa di arrivi le collezioni di simple stories i calendari di spellbinders che non ci aspettavamo i timbri giusti della serie bander strips che non ci aspettavamo perché speravamo che fossero giusti al primo ciak e invece va così e quindi niente ieri sera ho finito tardissimo come un buon rottamino come ogni buon rottamino che si rispetti avevo la schiena distrutta e oggi sono qui con i miei cerotti di voltaren presente ecco insomma però allora da dove iniziamo? partiamo partiamo da All&Create io intanto ho fatto una prova della mia fustella poi ve lo racconto meglio però l'ho fatta la prova perché kamikaze è proprio così come le strips magari è meglio di no mi hanno detto dalla regia le cose finite allora quelle che ho visto che sono finite le ho sbloccate quindi dovresti poterle ordinare fammi vedere se eventualmente è finito qualcos'altro e non me ne sono accorta adesso te lo dico subito funziona Daria si funzionano tutti e tre i pezzi devo provarla con la pattern ma lo facciamo in un live volevo giusto essere certa ma io lo sapevo che siccome c'hai messo mano tua ed è opera tua questa cosa qua sarebbe andata liscia perfetta sono le cose che faccio io che mi ostino a voler essere designer no allora fatemi vedere le cose di Olin Creates c'è qualcos'altro che è finito allora il 125 1225 e lo mettiamo ordinabile poi non è finito nient'altro dovrebbe esserci ancora tutto sì c'è tutto cioè è tutto non è vero che c'è tutto quello che è finito è ordinabile e lo ho in carrello lo chiudo nel weekend l'ordine quando vedo bene o male che cosa avete comprato e che cosa manca allora release di Halloween di Olin Creates Olin Creates ci abitua a delle release mastodonti che sono release che scodellano 30 32 36 prodotti tutti insieme ma noi siamo solo felici non so neanche da dove iniziare allora iniziamo da quelli che ho qua ne ho preso uno per quindi occhiute la serie delle occhiute che sono di Janet Klein questi sono molto carini la Klee deve imparare a colorare Dia dello Smuertos lei è molto me mi faccio crescere i capelli e poi è assolutamente molto me questi sono deliziosi più carini poi vado in ordine sparso perdonatemi dai catto questi sono finiti subito ma li ho già reincarrellati sono bellissimi vi fanno subito il progetto questi sono invece della parte un po' più grangetta tra l'altro tagliati a filo così sono meravigliosi ci mancava una fustella una fustella a lupo mannaro oi boh ci penso timbrino questi sono stupendi questa macchina fotografica e questo telefono vintage sono bellissimi qui ci sono i personaggini personaggini number two ci sono dei gatti e dei gufi quindi per me vincono subito questi sono molto carini anche la casa stregata vabbè sono tutti belli che c'è nel senso in questi li ha disegnati i apps è sempre e comunque una garanzia scusatemi questo invece fa parte della linea vintage così la macchina per scrivere è meravigliosa e così questi sono stupendi la Cle vorrebbe imparare a colorare di questo ce ne sono due tipi i washi non li apro portate pazienza perché non ne abbiamo presi moltissimi ma si vedono poi meglio le immagini nel nel sito sono entrambi layerabili quindi in realtà sovrapponendo i vari strappi di washi componete un disegno un pochino più grande non saprei come altro dirlo in italiano anche questi questi sono veramente belli questi qui molto team altro pezzo di occhio questi sono molto bellini anche questi due sono molto carini timbrini con i numeretti poi qui abbiamo carte che c'è in questa dimensione qui tra l'altro si chiama 11 la carta e 11 i rabon ne sono accorta perché stamattina li ho messi sbagliati questi sono i rabon e queste sono le carte nell'altra dimensione però sono diverse sono più o meno le stesse secondo me si sono le stesse si si sono le stesse formato a 5 formato a 6 e poi c'è un formato a 4 che è questo qua e queste sono le carte rabon ho scritto a chiara si tranquilli si si me l'ha detto ma tanto in realtà quando noi apriamo uno qualsiasi dei vostri ordini salvo che non siamo ubriache di stanchezza lo vediamo che ci sono altri ordini perché una delle modifiche che abbiamo fatto fare sul sito è che apriamo un ordine e vediamo la vostra situazione se avete ordini sospeso preordini abbonamenti quindi non ti preoccupare anche se in uno che hai fatto magari ieri hai chiesto di spedire quando arriviamo al primo che hai fatto vediamo che ce n'è un altro quindi per noi è logica lavorarli insieme di portare i copic è una distribuzione difficile quella dei copic e dei pennarelli in generale chi lo sa è una roba che sto ventilando da un po' di tempo ma non mi sono ancora mai decisa dici che potrei provarci io sono proprio una schiappa nella colorazione spooky house poi spooky tree c'è anche un gattino uno spooky cat die cat li ho in ordine sparso portate pazienza sempre die cat bustina rotta poi la chiudiamo e le famose tre fustelline aspettate che questo lo chiudiamo immediatamente che sennò perde i pezzi aspettate che prendo un pezzetto di nastro ok chiuso fatto ieri è arrivato oggi perché qualcuno degli ordini più veloci che potevano partire li abbiamo fatti in coda per poter sveltire un pochino la situazione perché quando facciamo ordini quando facciamo promozioni sul vecchio gli ordini le dico sempre sono molto più laboriosi da fare perché ovviamente ed è esattamente l'intento andate ad ordinare cose che non maneggiamo frequentemente quindi ci va un po' di più a trovarli quindi per non lasciare troppo in sospeso gli ordini che potrebbero partire che magari non hanno abbonamenti altre cose insomma di chi magari ci conosce anche poco perché poi pensa che ci mettiamo dieci giorni a fare un ordine e non è quella la regola allora in coda alla giornata prendiamo gli ordini che hanno le spedizioni e ne facciamo un po' per smaltirli allora dai cat e poi dicevo le tre fustelline delle casette che adesso apro giusto solo non le uso perché non so se me ne avanzerebbero per potermene tenere un set ma per vedere se ci stanno nella big shot normale di dire che aspettate che molto carini sì perché poi alla fine con le persone che si frequentano di più con cui si parla di più ci si contagia di intercalare modi di dire no allora dunque queste stanno in piedi perché qui non taglia la tua magari la proviamo domani o dopo domani adesso che è questa qua che ho aperto esattamente questa qua allora facciamo la prova piatto adesso mi vedrete riflessa nello specchio sappiate che non è un bello spettacolo perché prima mi sono un attimo dato una radanata per fare il reel ma vedete ci sta ovviamente in orizzontale perché ma ci sta anche così in realtà però la cosa furba è prendere la striscia e tagliare una striscia lunga di modo che poi possiamo fare più perché questo effetto qua è stato fatto fustellando quattro volte quattro volte ah ma perché tu l'hai piegata di qua ah l'hai piegata qui quindi solo due ah io mi immaginavo bordone grosso però sì anche solo uno sono riflessa non sono proprio bellissima però si vede poco dai vediamo se ci stanno tutte e tre questa è quella di halloween e ho già un paio di candidate che mi dicono che la posso provare proviamo se ci stanno tutte nella big normale perché poi ovviamente se avete la plus questa cosa non vi non vi non vi tocca ci sta ci sta anche così questa è quella di Natale è molto carina e questa è quella normale ok quindi immagino che per la proprietà transitiva ci stia anche questa sì stavolta le avevo guardate le misure per essere una negoziante preparata due fustellate vero e poi si piega a metà qua quante lanterne possiamo fare un miliardo di lanterne ma che meraviglia bravo bravo abs ok poi all and create abbiamo fatto c'è un sacco di roba come si riconoscono quelle di Natale guarda perché hanno gli alberelli io almeno penso che siano sì hanno alberelli stelline questa qui è una liscia che va bene sempre everything goes e questa è di Natale perché scusatemi di Halloween perché ha le zucche un pochino più spooky e questa qui con gli alberelli direi che è quella di Natale poi prendiamo waffle allora le postage dye che sono arrivate ma forse Elisa non le ha messe ordinabili le ho dimenticate di dirglielo scusate però la postage dye è quella normale la lasciamo ordinabile perché in realtà la sto riordinando subito perché sono arrivate quelle che sono arrivate erano praticamente tutte prenotate dalle persone che in questi giorni di vacanza l'avevano prenotata scusatemi allora postage vediamo un attimo sì te l'ho messa via io stamattina sì in tarda mattinata postage college dye la mettiamo allora intanto la sblocchiamo e la mettiamo ordinabile perché ci servirà anche per tutte le altre ho dimenticato di dirglielo per tutte le altre cose che arriveranno ok quindi la trovate in cima alle novità ordinabile allora perché ne sono arrivate 10-12 ed erano tutte prenotate allora fustellina ricamabile per cui arriverà lo stencil perché da sola ha un po' poco senso hanno fatto i oh mamma i telaietti da ricamo loro sono stati se non erro i primi o almeno mi hanno fatto conoscere la prima fustella del telaietto ricamabile nel mercato poi magari in precedenza o di brand che io non conoscevo ce ne erano anche altre però ricordo che una delle prime fustelle che ho preso da loro comprato da quando quando avevo il negozio era un telaio da ricamo questa è più piccola questa è deliziosa c'è anche lago e questa è ovale che non si era ancora mai vista ed era almeno io non l'avevo mai vista poi non vorrei mai insomma screditare il mercato però ne vedo tante insomma di brand non mi era ancora capitata una fustella di telaio da ricamo ovale è bellissima gli schemi frissi sì sicuramente ho preso anche queste che sono le stitchable cards che quindi sono praticamente i pannelli già tagliati già forati che potete poi usare come elementi sono arrivati alcuni dei grip mat forse Giovanna mi chiedevi la differenza allora tra la versione vecchia e la versione nuova in realtà cambia il materiale con cui sono stati fatti perché il materiale vecchio aveva preso aveva subito un aumento di costo del materiale grezzo molto importante e quindi in realtà stanno finendo le scorte che avevano e stavano hanno cercato un'alternativa e quindi ovviamente la versione 2 quando c'è scritto V2 è la versione più nuova ok è comunque un polimero non saprei dirti in che cosa cambia la composizione proprio del prodotto nel senso che in realtà l'utilizzo è il medesimo e la resa è ottima sia che tu abbia la versione prima che tu abbia la versione nuova io mi devo ricredere lo uso per gli stencil l'ho usato diverse volte adesso per fare i microprogettini del calendario dello spavento ed è veramente utilissimo è un guarda faccio prima a fartelo vedere un secondo che non a cercare di mugugnare qualcosa per spiegartelo questo è quello che mi sono aperta io adesso gli diamo una pulita è praticamente un polimero che può ricordare molto da vicino il polimero dei timbri quindi si appiccica da solo lo lasci attaccato se vuoi alla sua superficie e lo usi per stensilare che probabilmente non è un termine che esiste però adesso io ho qui una tag di quelle tagliate per il calendario dello spavento se la metto qui vedi praticamente non si muove non è incollato quindi in realtà lo posso togliere molto facilmente ma ci serve per evitare di muovere che lo stensil si muova e che quindi tu sbagli il disegno prendiamo uno dei miei stencil questo sporco ovviamente io in genere sono proprio un po' dothraki e metto sempre anche il washi ma guardate prendo un distress aspettate che prendo un pennello normalmente io lo fermerei con il con il washi invece questo ti rende molto più semplice il lavoro questo è uno stencil difficile perché è molto sottile adesso poi te lo faccio vedere anche con uno stencil più umano però vedi lui rimane lì se lo facciamo con uno stencil meno complicato quindi non così sottile e che abbia quindi più aderenza sul tappetino perché qui abbiamo veramente delle striscette minuscole guarda le stelline io sto tenendo qui sotto guarda come fermo cioè si muove perché lo sto muovendo sul tavolo ma lo stencil è congelato lì vedi non saprei come spiegartelo in maniera sintetica è un un pezzo di polimero siliconico credo poi perdonatemi se dico una funchiata appiccicosetto che ci serve per tenere ferma la carta e ovviamente in questo mondo noi possiamo usarlo per tenere fermi gli stencil sulla carta il lavoro che fa è perfetto su questa superficie potete fare anche le timbrate specchiate per esempio un po' il principio della come si chiama della gel press la clay aveva giuro anche eccolo qua anche questo ci sono poi questi per le misure io ovviamente molto d'otracchi non lo sto usando però mi sono ricreduta sul suo utilizzo quando ho fatto appunto i lavori per il calendario dello spavento per cui ho stencilato molto perché ho cercato di fare dei progetti super semplici quindi in realtà i colori mi hanno aiutato molto quindi grip matte versione 1 versione 2 in termini di performance in termini di usabilità e di utilizzo sono gli stessi forse i due costano un pochino meno perché sono di fine serie quindi se le timbrate specchiate come te lo spiego la timbrata specchiata è per esempio se tu hai un animaletto che guarda a sinistra e invece tu lo vuoi duplicare perché lo vuoi che si guardi a destra destra e sinistra per me è difficilissimo provo a spiegartelo o vuoi mettere vicini che si guardino si timbra sul polimero adesso l'acletta lo fa vedere perché in termini di utilizzo dell'elloquio stiamo un po' un po' messa male aspetta che cerchiamo un timbrino che vada bene vediamo allora mi serve uno stamping tool dovrebbe funzionare così solo che tu non ci stai ma io ci provo lo stesso è giusto per farti vedere è giusto per farvi vedere come funziona allora timbro qui sopra prendo un pezzetto di carta che potrebbe assolutamente poi essere anche questa qui allora inchiostro e timbro qui sopra tolgo carta c'è già lo spessore della press ah è così ho sporcato vabbè ho sporcato di qua perché sono una fessacchiotta adesso io non ho timbrato sufficientemente bene né con sufficiente pressione però vedi che rispetto a com'è il timbro se io se io adesso lo timbrassi di fianco si danno un bacino sul nasino e il 5 con la zampina va timbrato meglio no questa puntata non è stata fatta nei caffè scrap provvederemo bisogna inchiostrare un po' meglio e poi questo in realtà lo pulisci come un timbro adesso non so se il verso famiglia semplicemente con l'acqua ma se no usiamo il pulitore sì ma viene via con l'acqua se no stasone cleaner e viene via serenamente questa superficie qua è super pulibile adesso poi questo magari lo puliamo meglio così possiamo far diventare le timbrate simmetriche ovvio che per quanto riguarda i testi non non ha senso farlo perché non vi servirà mai una scritta non avrà senso una scritta specchiata ma quando si tratta di bambuccini da colorare invece si possono creare degli effetti molto carini tipo per San Valentino io avevo visto la prima volta che l'avevo vista fare questa cosa era stata per San Valentino con due coccinelle quindi coccinella di qua coccinella di là cuoricino e mezzo super easy super simple alla portata di tutti io adesso tenete presente che qua non ho questo che si appoggia perfettamente qui sopra quindi è un po' trigoso da fare però mettendo i giusti spessori si può fare assolutamente un tempo c'erano i timbri apposta che erano praticamente un pezzo di timbro di silicone completamente pieno immaginate un rettangolo pieno e c'erano della My Favorite Things e anche di un'altra marca che adesso è della Paper Smoochies che adesso non è più in attività e servivano proprio per questo scopo per poter doppiare i bamboccini questo qui che ho io è il 6,5x8,5 è proprio questo qua che così era un pochino più grande così mi faceva comodo per le tag grandi su cui stensilavo perché ho fatto tutti i progetti del calendario che ho fatto io sono su questa tag qua quasi tutti le timbrate simmetiche che bei tempi un tempo c'era questo timbro qui poi se avete la gel press se avete un grip mat secondo me in qualche modo si può fare non credo che adesso sia più reperibile il timbro della My Favorite Things che faceva tagliare allora credo di sì non saprei cosa consigliarti per tagliarlo ho dei bruttissimi rapporti con i cutter probabilmente un buon cutter te lo taglia però esistono di talmente tante dimensioni che probabilmente conviene che ti prendi quello più piccolo e lo usi per fare le timbrate specchiate piuttosto che tagliarlo però immagino che sia tagliabile non saprei suggerirti come non ti dico che non ti dico che provo perché se no poi ci serve Derek Shepard per concludere il live quindi preferisco allora alla maldestritudine mettiamo via il calabitone dunque mi sono arenata grip mat poi le fustelline ve lo fate vedere sono tornati il postage college della ponsezia del gingerbread che è meraviglioso vorrei assolutamente tanto provarlo devo assolutamente provarlo gli omini gli snowman poi c'è la fustella del segnalibro questa release di waffle flower è a tema segnalibri adesso ve la faccio vedere la fustella perché altrimenti così non si vede voilà è perfetta un bel nastrino e c'è anche il timbro questa è la parte stitchable poi c'è la fustella vera e propria che adesso vi faccio vedere che è questa la round book mark dye questa arriva col foglietto magnetico ne hanno fatti tanti sì però è un'idea estremamente carina secondo me molto versatile una delle prime cose che mi hanno insegnato in un corso scrap è a decorare i segnalibri non so se la cosa vi torna familiare in qualche modo vedete base mattatura le righine i salvabuchi per la foil plate sai che forse non l'ho presa Valentina se ce lo chiedi che così mi rimane come promemoria o lo scrivi a Chiara su messenger portate pazienza che uso questo telefono senza fili ma io veramente da quando finisco in live a quando vado di là puff è finito cioè delle cose non me le ricordo o le faccio subito che dimensioni te lo dico subito aspetta che la riapro un attimo però ho il computer qui dietro potrei farlo potrei farlo adesso di incarrellarla allora lei mi è alta 6 pollici quindi 15,3 4 per 2 pollici quasi 2 pollici un 5 centimetri guarda adesso lo faccio perché se no me lo dimentico la gente pensa che alcuni pensano che sia una parte che no no sono proprio svampita così devo dire che da quando ho sistemato la vitamina D che non c'era più non pervenuta va molto meglio però comunque sempre svampita sono aspettate un secondo che ho un carrello direttamente perché se no me lo dimentico ops riga è caduta la riga allora veniamo un attimo ok benissimo allora bookmark veniamo un attimo scusate ma se lo lascio appoggiato non vedo per il riflesso alla foiling plate ok l'ho incarrellata così siamo tranquilli poi il timbrino per la fustella ok due versioni e si chiama round floral bookmark e c'è lo stencil coordinato i timbri si coordinano con questi due stencilini qua e poi hanno fatto i critter sono bellissimi cioè guardate il gufo il gattino vabbè sono meravigliosi questi ve li ho già fatti vedere credo di avervi fatto vedere tutto adesso vi poi è finita ma l'ho messo ordinabile vero prima li ho sbloccati tutti quelli di waffle flower che ho visto che ho visto finiti aspettate che ricontrollo perché magari nel frattempo è finito qualcos'altro ovviamente non me ne sono resa conto sono ordinabili io li ho sbloccate se le vedete ancora esaurite la fustella la fustella fiore in che senso la fustella fiore lo stencil perché c'è anche una fustella di quella roba lì winter com'è che si chiama aspetta che lo vedo vedere tu dici che ho dimenticato altre cose ho comprato cose cose a caso winter floral che c'è sicuramente non ringiovanisco quindi ah c'è il panel dai ne prendo un paio fatto ok adesso vi porto a vedere le carte singole delle due collezioni di simple stories di cui ho deciso di prendere le carte singole perché secondo me erano un pochino più versatili e poi arriveranno anche le carte singole delle due collezioni che ancora mancano che sono la simple vintage jolly jolly e la simple vintage adesso non mi ricordo come si chiama l'altra arriveranno con le collezioni e credo anche con la collezione del simple vintage mouse tutti questi simple vintage mamma mia allora stacco il telefono e iniziamo ad andare a vedere qui in negozio c'è ovviamente il solito casino ma tanto voi siete abituati e andiamo a vedere le carte singole qui c'è la sideran danatz che un paio diventano poi riguardo i numeri mi sembra un ottimo suggerimento quello della lupi visto e considerato il personaggio che sono guardate che meraviglia anche con questo dobbiamo fare tanto per chiamarle simple vintage bla 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 che uno non se lo ricorda mai adesso non tolgono i prodotti da simple stories però io faccio un po' confusione se non mi ricordo come si chiama e adesso sono super 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 tentata di aprire il computer andarlo a vedere però vabbè io queste palette le adoro verso il fine anno abbiamo anche nelle mie collezioni delle palette un pochino più vintagerelle anche il natale lo dicevo ha questi colori caldi un po' un po' un natale toon diciamo ci sono delle grafiche che ho trovato che mi ricordano molto la toon e me ne sono assolutamente innamorata e mi son detta e che natale sia i funghetti ma perché queste zucche no io sono assolutamente innamorata di qui ci dobbiamo fare un albumino allora no ma guarda io le amo proprio cioè queste palette questa è la 49 qui giriamo la situazione dei pacchi è sfuggita di mano nel senso che con l'arrivo dei calendari di Spellbinder si è diventata un po' drammatica adesso che smisteremo anche i nostri 200 calendari di Halloween mi scappa da ridere però va bene Simple Vintage Scary Stories guardate no vabbè mi piace tantissimo questa collezione tanto così il terzo soppalco ci serve perché il secondo non basta spero di riuspettare che mi allontano un briciolo che cerco di farvele vedere un po' meglio avrei dovuto portarmene al tavolo in effetti i plaid come se non ci fossero domani con me i plaid hanno sempre sfondato portoni i portoncini poi c'è anche del marrone nella collezione di Halloween cioè io guardate qui abbiamo questo play d'argyle con i rombi e qui abbiamo craft e pipistrelli cioè voglio dire l'hanno fatta per me questa collezione qua visto che non avrò una collezione di Halloween quest'anno userò questa che dire guardate che meraviglia questa fa molto Salem e tra l'altro ho delle foto di Salem potrei assolutamente sfruttarle al tempo non ero molto da selfie quindi non ne ho neanche una di me stessa medesima Salem toccherà tornarci prima o poi in qualche vita guardate che belli questi così ah un'altra cosa che ho dimenticato di prendere ma adesso ve lo vado a prendere il fiore numero 3 ok no vabbè è molto Salem questa collezione qui mi piace tantissimo torniamo verso il tavolo non ne può più neanche quest'angolo non ne può più lì c'è il calendario dello spavento che ho usato io oppla allora dunque visto che questo fine settimana è arrivato il mondo intero con l'unica attività ludico-recreativa è l'omaggio del timbro che insomma come sempre noi attiviamo un qualcosa di omaggio promozione sconti insomma il pomeriggio del venerdì sono le nostre attività scusatemi ludico-recreative del weekend questo in questo weekend avete in omaggio il timbro della collezione Flowers numero 3 adesso ve lo porto ve lo faccio vedere generalmente questo timbro si genera nel carrello con 50 euro di ordine per tutto il weekend fino a lunedì mattina quando disattiveremo questa cosa fino a lunedì mattina lo avrete per 45 euro adesso vado a prenderlo così ve lo faccio vedere ecco qua adesso prendo una base bianca che così non so se ce la fa lunedì perché si sono dimenticati di spedirmi uno degli ordini nel senso che ne hanno spedito un altro piccolissimo con pochi reintegri con poche cose che aspettavo e hanno dimenticato di unirlo a quell'altro che è rimasto fermo lì come vedete dicevo prima l'unisci ordine è ancora un po' da perfezionare in questo furitore non so se lo spediranno oggi se lo spediscono oggi tendenzialmente lunedì potremmo averlo sdoganamento permettendo se lo spediscono lunedì ci arriverà intorno a mercoledì insomma questo qui non so che fiore sia non me lo chiedete non mi interrogate le frasette sono sempre fatte con la stessa logica di poter essere usate da solo insieme momenti felici da ricordare istante per istante sempre due foglie sto cercando di fare più o meno con la stessa logica allora ho ricevuto tante richieste perché questi timbri diventino comprabili e non solo omaggio perché magari le persone non sempre nel momento in cui io li designo come omaggi di quel momento di quella settimana possono vogliono hanno qualcosa da comprare che mi pare difficile con tutte le uscite però magari alcune delle uscite non a tutti piace tutto e quindi magari in quel momento lì non c'è nulla che interessa non lo so ci sto riflettendo ne ho preparati tantissimi non credo che sia un anemone il centro è un po' diverso però non lo so dopo che ho detto del fiore di cocco al bottalico io mi astengo da qualsiasi nomenclatura non supportata da evidenza letteraria ecco è un fiore è bello ne ho già fatti altri 5 o 6 in realtà che sono solo pronti da da far da far produrre insomma sto valutando se farli diventare un prodotto continuativo e quindi fare una serie di questi timbri che potrebbero uscire una volta ogni uno o due mesi per dire e ogni tanto decidere che è l'omaggio o farli iniziare come omaggio e poi farli diventare in definitivi prodotti a catalogo questo mi avete chiesto mentre io avevo pensato di tenerli semplicemente come omaggio lo sto valutando sappiate che le leggo le velate richieste non riesco mai a rispondere magari ci metto un po' a leggere non le leggo proprio nel momento in cui le fate ma questa è una richiesta che mi è stata fatta più volte quindi insomma assolutamente la tengo in considerazione vediamo un attimo di farci una timbrata di questo che così ve lo faccio vedere in tutto il suo spondore scusatemi sposto solo tutto questo ambaradan di cose hanno un momento lo metto qua prendiamo la platform prendiamo un pezzetto anche di carta bianca che è quello da cui ho tagliato la mattatura della nostra fustella magari lo taglio sposto il pc perdonatemi perché se lo rompo allora vediamo un po' così adesso non faccio un masking quindi in realtà timbro solo il fiore vi faccio vedere la resa del centro che potrebbe sembrare un po' trigosetto ma questo tipo di polimero che stiamo usando è veramente super super bello per le timbrate anche questi magari non saranno super ben allineati ma allora istante per istante questi non saranno drittissimi perdonatemi ma prendiamo il verso fine ricordatevi sempre di non pigiare troppo specie quando le linee sono molto sottili perché ovviamente se pigiate troppo un pochino il polimero si deforma e la resa non è bellissima quindi piuttosto si riappoggia l'inchiostro nuovamente io possiedo il pigetto è bellissimo è meraviglioso mi è caduto il verso per un pelo sul piede scusate che buonissimo allora rinchiostro solo questo perché in realtà il fiore è venuto magnifico senza bisogno di ritocchi io poi possiedo il pigetto tra i miei prodotti quindi sarebbe anche intelligente usarlo adesso aspettate che zoom perché si vede meglio è bellissimo secondo me mi è piaciuto molto e ne ho tipo 6 o 7 pronti direttamente solo da mandare in stampa perché mi ci sono messo un giorno e adesso mo li faccio e via concorderete con me spero spero una volta che prenderete la mano ad usare questo polimero che la resa della timbrata è veramente come l'altra è sempre ottima questo ha di più che non ingiallisce quindi in realtà ho sacrificato un pochino di guadagno per per avere una timbrata migliore ponsezia eh sai che non l'ho messa la ponsezia Rachele no ma sono una cretinetta bisogna metterla qua adesso la fa domani la faccio I promise domani sono indecisa se provare questi campioni e metterveli poi quindi in preordine ma devo riuscire a fare le immagini dei prodotti prima allora la fustella del francobollo poi ve la racconto sarà la fustella stessa la fustella che fa la base e la fustella che taglia la mattatura e lo stencil sarà a parte vi darò poi l'opportunità di comprare il bundle però le due fustelle le farò confezionare insieme perché sono strettissimamente legate una all'altra perché altrimenti di questa qui che vi taglia questi pezzettini non ve ne fate assolutamente niente e perché farne due separate costerebbe molto di più che metterne due in una confezione sola quindi abbassiamo tantissimo i costi la faccio sempre in realtà I promise adesso la disegno cioè la metto insieme perché io non disegno niente lo ridico sempre cioè let's stay humble ne cerco una che mi piaccia scrivo le frasette e la mandiamo in produzione assolutamente e a questo punto decidiamo se farla magari sarà prima un omaggio e poi la potrete comprare allora abbiamo mandato facciamo un attimo di autopromozione il link agli abbonati per preordinare i prodotti delle due nuove collezioni settembre che pare che vi sia piaciuto tantissimo sono molto contenta forse un qualcosa un po' più di vintage lo stavate aspettando e ottobre ho scritto nella mail l'ho scritto anche poi nei social che vedrete che le carte costano meno costano come le carte di Natale questo perché purtroppo la tipografia mi ha dato conferma l'altro giorno che non so non sanno garantirci di poter approvvigionare un numero di carta sufficiente per stampare le due collezioni quindi per non ritrovarci nella medesima situazione in cui io ordino una carta provo una carta e ce ne mandano un'altra abbiamo cambiato carta e abbiamo stampato in questa volta sulla carta che abbiamo usato per la collezione di Natale ho chiesto di vederne anche altre per curiosità visto che insomma dato che dobbiamo fare i cambiamenti facciamoli più grandi e ho anticipato che ovviamente costando meno la carta faremo quello che vi avevo già anticipato nei kit che non metteremo le strisce di carta ma metteremo le carte intere ovviamente dovremo fare delle variazioni rispetto ai costi della release dell'abbonamento Tinta Unita appena quadro tutto vi scrivo gli abbonamenti nuovi che si genereranno il primo settembre che sabato prossimo avranno già il costo corretto nuovo e per la tranche che invece avete pagato il primo agosto vi faremo un buono coi punti mi è sembrata l'unica soluzione mi spiace perché la carta martellata che abbiamo usato fino ad ora ci ha accompagnato per tanti anni ed è meravigliosa però se non sono in grado di garantirci l'approvvigionamento sufficiente al numero di foglie che abbiamo necessità di stampare tra l'altro da qui a fine anno perché i tails si concludono con l'anno non me la sento di avere sorprese di nuovo funeste è vero che l'altra volta con la sorpresa funesta poi è arrivato Ron però non è che posso pensare che mi arrivi una compensazione mi scrivi su problemi e però neanche in spam potrebbe essere che essendo una mail che viene mandata da un gestionale che manda newsletter il tuo client di posta o il client di posta che usi per dire Outlook o il libero il gestore google quello che è lei in casella newsletter pubblicità addirittura alcuni le cancellano arriva dalla mail shop però tu scrivici se non la trovi che te la rigiriamo non ti preoccupare e cos'altro devo raccontarvi nulla credo di avervi detto tutto domani vediamo cosa fare se tenerci delle cose un pochino più easy visto che insomma è stata una settimana super strong e abbiamo online all and create collezione di halloween e abbiamo anche ancora parecchie cose della collezione di natale reintegri e nuova collezione di waffle flower alcune cose sono già finite così come anche per all and create e le abbiamo sbloccate quindi le potete prenotare a fine weekend non penso che madre c'è un round 2 no 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 assolutamente sono concorde dicevo così le potete vedere alla fine weekend farò l'ordine di reintegro per tutti e due così da poter garantire insomma quantomeno di raccogliere i primi ordini che arrivano adesso e ideology si sono dimenticati di spedirci il collo con quell'ordine quindi spero che lo spediscano oggi se lo spediscono oggi tendenzialmente lunedì lo avremo diversamente mercoledì perché se lo spediranno lunedì ci vanno almeno tre giorni sdoganamento permettendo sono arrivate anche le carte singole delle prime due collezioni di simple stories la simple vintage scary stories e la side and donuts che sono rispettivamente quella di Halloween e quella autunnale che io adoro adorissimo tutte e due mi piacciono tantissimo e che altro è arrivato qualche piccolo reintegro della fortinine cosa ci aspettiamo la prossima settimana sul finire della settimana o inizio di quella dopo arriveranno le cose del bottalico cioè giusto giusto per quando noi iniziamo a smistare il calendario dello spavento se non avete ancora ordinato il calendario dello spavento vi invito a farlo perché questo fine settimana iniziamo a confezionarlo chissà se si può sbirciare qui dentro o no non si può sbirciare perché ci sono i campioni il mio ormai è un calendario usato nel senso che ho aperto tutte le buste ho usato tutto quello che c'era nelle buste e mi ci sono divertita molto la carta velina ormai potrei usarla per fare una pallina per far giocare Ron però vabbè il pensiero è quello che conta non vedo l'ora di vedere che cosa ci realizzerete con queste con queste cosine io sono veramente molto contenta le ragazze hanno fatto dei lavori stupendi quindi sono certa che vi piaceranno molti saranno di ispirazione poi sono assolutamente impaziente di vedere che cosa ci farete voi e vi ricordo che iniziamo a spedire dai primissimi di settembre e poi dal 14 partiamo con l'apertura un giorno alla volta di tutti i prodotti il preordine Francesca sai che ha fatto uscire degli ink ha fatto uscire le carte scontate le carte risive scontate e i binder scontati lo trovi nella sezione dei preordini poi sei ancora in tempo perché posso aggiungere tranquillamente per ordinare tutte le novità e poi in realtà credo che dovremo tremare per la collezione di Natale però vabbè intanto parliamo di Halloween quindi io per ora vi saluto è stata una settimana lunga difficile con il rientro dalle vacanze ma lo dico l'ho sempre detto e lo penso sono felice perché questo è il periodo più di ispirazione dell'anno più creativo il periodo in cui vediamo più cose belle anche fatte sulle pagine del gruppo vi invito a condividere le cose che fate quando l'anno scorso abbiamo avuto quell'ondata anomala di nuovi membri e un po' ci si stava perdendo perché le persone magari non si soffermano a leggere specificatamente di che cosa si occupa un gruppo c'erano stati post di lavori che non c'entravano nulla abbiamo invitato tutti gli iscritti a postare lavori scrap per far vedere insomma ai nuovi arrivati di che cosa si parlava lì dentro e avete postato delle meraviglie quindi fatelo più spesso quello è un luogo per cacerare per condividere per prendere il nostro hotel Pumpkin Spice ma è bellissimo quando condividete tutto quello che fate insomma a me rende la giornata migliore per ora vi saluto vado a svenire sul divano a fare due coccole ai mici e noi ci vediamo domani per il solito live intorno alle 14 tu foste gli fantasmini grazie a tutti buono shopping buona serata e a domani ciao ciao